150 anni di storia della montagna in mostra allo spazio Oberdan di Milano per festeggiare il CAI. Ritratti esclusivi degli alpinisti che hanno fatto grande la Lombardia, da Riccardo Cassin fino a Simone Moro. I cimelli delle spedizioni italiane negli 8000, corde, piccozze, la tenda usata nella salita al K2 del 1954, incluse bombole d'ossigeno. La storia della montagna attraverso l'evoluzione dell'attrezzatura o la stampa, ma soprattutto l'omaggio alle sezioni storiche Lombarde del CAI, le più antiche chiavenne Cantù, fondate nel 1863. E' così che la terra delle montagne dà il suo contributo con una mostra, la Lombardia e le Alpi, allo spazio Oberdan a Milano, fino al 7 luglio per i 150 anni del club alpino italiano. Questa storia è iniziata esattamente a Milano dieci anni dopo, però alcune città della Lombardia già nel 1863 avevano inaugurato la loro sezione, il CAI Milano ha 140 anni perciò di storia sua, storia gloriosa. La mostra, negli spazi della provincia, con contributi provenienti anche da archivi privati, appende al muro l'iscrizione al CAI Milano datata 1889 di Achille Ratti, ovvero Papa Pio XI, alpinista d'eccezione, e fa conoscere figure meno note. Per esempio il primario dell'ospedale Vittorio Ronchetti, che agli inizi del Novecento fece cinque spedizioni al Caucaso, nemmeno i georgiani di oggi riescono a raccapezzarsi nelle sue carte topografiche. Per festeggiare anche serate di cinema incontri in via Duccio di Boninsegna, la nuova sede del CAI Milano.